Il set del video di Disco Paradise è il mio regista preferito, tu sei un maledetto, nonché regista della Dolce Vita, back to back, anche quest'anno. Siamo ancora qui sul set, che aspettiamo? Dovevamo fare un balletto, poi alla fine? Come un balletto? La so, però... Pubblicando foto e storie su Instagram. Questi aggiornamenti permettono ai fan di entrare nel backstage delle riprese e di vivere da vicino l'entusiasmante esperienza. Disco Paradise ha già conquistato il cuore del pubblico, con il suo sound contagioso, e i fan non vedono l'ora di vedere il risultato finale del videoclip, che promette di essere un'autentica esplosione di energia e creatività.